Meno 10 all'inizio della Coppa Italia, siamo nel tempio di Catania Sportivo, siamo allo stadio Angelo Massimino, il Catania scenderà in campo giorno 17 dopo una lunga querelle per quanto riguarda il manto erboso, una lunga querelle che ormai si è chiusa con il 28 luglio, la riconsegna dello stadio Angelo Massimino proprio alla Catania che adesso sta cercando di fare un restyling generale di tutto il manto erboso e di tutto l'impianto in vista del primo impegno ufficiale, dopo la querelle che dicevamo con musica e suoni il campo come vedete è praticamente perfetto, anche la zona inquisita, la zolla grande chiamiamolo così, la zolla Ligabue che state vedendo è stata completamente ripristinata come da contratto dalla società che aveva portato avanti l'organizzazione delle concerti. Sì, tanto rumore per nulla, in realtà ci sono state chiaramente dei timori e questi timori magari potevano anche essere fondati, io non entro nel merito di questo, però la cosa che conta è che anche a Catania si fa quello che si fa in tutte le parti d'Italia, che si organizzano concerti, che se c'è un po' di prato che va in sofferenza si può tranquillamente manutentare, rimettere nelle condizioni, diciamo, di poter fare i campionati di serie A, di serie B, la Champions League, possiamo fare quello che vogliamo e possiamo fare anche gli eventi di musica che sinceramente attirano tantissima gente. La Catania dunque adesso lavora per rifinire tutto il prato e poi si potrà cominciare a giocare una stagione lunghissima, una stagione probante e guardate l'erba cresce, è tagliata perfettamente, speriamo che possa crescere allo stesso modo anche la squadra di Maurizio Pellegrino.